Forse non tutto è davvero perduto, ma c'è ancora una speranza di mantenere in vita il Tribunale di Mistretta e la sezione staccata del Tribunale di Sant'Agata Militello. Nonostante l'ormai prossima entrata in vigore del decreto di riorganizzazione delle sedi giudiziarie prevista per il prossimo 13 settembre, il disegno di legge proposto dai senatori Bruno Mancuso e Lucio Malan tiene infatti ancora accesa la speranza di evitarne la soppressione. La seconda commissione giustizia del Senato ha infatti discusso il disegno di legge a firma dei senatori PDL e di altri colleghi del PD e all'unanimità ha votato favorevolmente all'approvazione del disegno di legge di proroga della riforma della geografia giudiziaria. L'orientamento prevalso in commissione è fortemente critico nei confronti del piano di riorganizzazione della giustizia italiana, così come concepito dalla riforma Monti, che determinerebbe la cancellazione di presidi di legalità e giustizia indispensabili in alcune zone del paese, come il territorio dei Nebrodi. Nei giorni scorsi, tra l'altro, era emersa in tutta la sua evidenza la difficile applicabilità dell'accorpamento di Mistretta e Sant'Agata a Patti, viste le carenze strutturali proprio della sede pattese, inadatta ad ospitare i carichi anche delle altre due sedi. A tal proposito, c'era stata la richiesta da parte del Presidente del Tribunale di Patti di mantenere aperta la sezione di Sant'Agata solo per i carichi pendenti e per l'archivio, proposta che ha subito trovato la ferma opposizione del Comitato degli Avvocati, che hanno giudicato improponibile tale soluzione di una sede azzoppata. Di chiusura della sezione staccata del Tribunale se ne parlerà anche oggi in Consiglio Comunale a Sant'Agata a Militello. Il civico consesso dovrà fornire un'indicazione precisa all'amministrazione se accettare o meno la proposta del Presidente del Tribunale mantenendo la sede a scartamento ridotto oppure chiedere, come proposto dagli stessi Avvocati, il mantenimento dell'attività a pieno regime piuttosto che il trasferimento immediato al 13 settembre. Il tutto ovviamente in attesa di vedere se il disegno di legge approvato dalla Commissione del Senato e pronto per la presentazione in Aula riuscirà a riaprire la partita. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.